Benissimo. Allora, buonasera a tutti e buonasera a Giovanna. Buonasera, buonasera a Ursula, buonasera a tutto il tuo pubblico. Grande onore averti qua. Grande onore per me essere stata invitata, grazie. Volevo dire a tutti che io sono emozionatissima perché è la prima volta, noi ci siamo collegate qualche minutetto prima e ancora non ho smaltito, la tensione è... Ma dai, un'emozione. Comunque stanno arrivando, si stanno collegando, salutano tutti. Tu non puoi vedere, se vuoi vedere, Giovanna, se tu volessi vedere i commenti tu dovresti entrare da un'altra finestra su Facebook. Ma no, perché poi spesso questo crea un ritorno e minima un po' l'audio. A me è successo. Magari se qualcuno ce l'ha con me me lo dici tu che vedi. Lo dico, se lo cancello subito, lo butto fuori dal gruppo. Intanto grazie, grazie di aver accettato l'invito. Io ho provato già a mettermi in contatto con te qualche anno fa e non ci sono riuscita. Davvero? Come mai? È strano. Perché stavo cominciando e non avevo ancora... No, perché io non ti ho risposto. Non lo so, non lo so, forse su Instagram sono molto, molto ancora... Ah, ok. Mi ricordo che una volta mi hai messo like su una mia storia e io ero felicissima. Ma dai! Figurati! Andavo a girare, c'è Giovanna Garcuglio che ha messo like su una mia storia. Era un'emozione unica e quindi puoi immaginare che per me sei un mito, è normale. Ma dai, ma dai. Guarda che è pericolosissima questa cosa perché sai che quando le persone ti mettono sul piedistallo, poi dai piedistalli è facile cadere e quando si cade ci si fa tanto male. Perché si entra nell'orgoglio, sì. Però tu non lo farai. E allora c'è Elsa che sta leggendo, ha iniziato di leggere un tuo libro con Francesco che ci stanno salutando, si stanno collegando. Allora, l'argomento di oggi, amore e abbondanza, perché noi abbiamo parlato qua nel canale sulla spiritualità e sulla ricchezza, ma l'amore, che c'entra con l'abbondanza? Come lo possiamo mettere? Allora, diciamo che l'amore è tutto ciò che è, perciò se noi vogliamo abbondanza dobbiamo stare nell'amore, altrimenti siamo nel non essere e quindi siamo nella carenza e siamo nella scarsità. Allora, qualche anno fa io ho realizzato un videocorso che si chiama appunto Amore e Abbondanza, insieme a un'amica, e è stata lei a propormi di fare questa cosa. E quando mi ha proposto appunto di cercare di mettere le persone in sintonia con l'abbondanza proprio, abbondanza a 360 gradi perché chiaramente è abbondanza economica, abbondanza materiale, ma anche abbondanza a livello di relazioni, di benessere, eccetera, eccetera, per me è stato proprio naturalissimo associare l'amore all'abbondanza. L'amore, io parto dal presupposto che tutto è uno, l'uno è amore, tutto è amore che si muove verso il riconoscimento di se stesso. Questo significa che tutto quello che esiste è in essenza energeticamente fatto della stessa sostanza dell'amore. Questo significa che per avere abbondanza di qualunque cosa che è in essenza amore, più noi siamo sintonizzati sulla vibrazione dell'amore, più, per la nota legge di attrazione, il simile a tre è il simile, più entriamo in risonanza con quello che ci somiglia e quindi siamo in grado di avere tutto quello che ci serve, proprio perché il nostro stare nella vibrazione dell'amore, il nostro riconoscere la nostra reale identità che è amore, ci permette di vivere consapevolmente tutto quello che ci arriva, quindi di ottenere amorevolmente e percettivamente tutto quello che è anche visibilmente sulla stessa vibrazione dell'amore. Perché se tutto è amore significa che qualunque cosa faccia parte della nostra realtà, qualunque cosa, nessuna esclusa, è in essenza amore. La difficoltà nasce quando noi, da esseri limitati quali siamo, percettivamente non riusciamo ad accorgerci della bellezza che è contenuta in quello di cui stiamo facendo esperienza e quindi anche della bellezza e della disponibilità che c'è all'interno dell'universo di qualunque cosa ci serva. E infatti c'è sempre stato insegnato che invece viviamo in un universo fatto di scarsezza, che se io ho tanto è perché l'ho portato via a qualcun altro. Invece questa non è un'informazione reale. L'universo è pieno di tutto quello che serve. Il punto sta nel sintonizzarci sulla nostra miglior versione. Nel momento in cui noi siamo la miglior versione di noi stessi, la vita non può che darci tutto quello che è il meglio per noi. E quindi l'abbondanza in ogni ambito. Naturalmente per fare questo bisogna, visto il tipo di società, visto il tipo di educazione che abbiamo ricevuto, visto purtroppo anche il tipo di spiritualità che abbiamo sempre vissuto, perché noi siamo tutti, più o meno veniamo tutti dal mondo cristiano-cattolico, dove la scarsezza, la povertà è addirittura considerata una qualità, un qualcosa da ricercare. Per cui abbiamo veramente un gran lavoro di pulizia, di credenze da fare. Perché finché noi siamo convinti che spiritualità e materialità siano due cose non solo diverse, ma contrastanti, è chiaro che non andremo mai da nessuna parte. Perché se noi pensiamo che spiritualità e materialità siano due cose che vanno una contro l'altra, è chiaro che una persona spirituale non può essere ricca. perché la ricchezza è il simbolo del diavolo. Perché appunto, come dicevo prima, se io ho tanto, qualcuno ha poco. Invece appunto bisogna fare proprio un lavoro di risettaggio. Dobbiamo recuperare le informazioni reali di come funzionano le cose e di come è composto il nostro universo. Finché noi pensiamo che il denaro sia uno strumento malevolo, non potremo mai avere tanto denaro se ci consideriamo persone buone. Invece questa è proprio un'informazione forviante, senza nessun fondamento. E tutte le informazioni che vanno in direzione della scarsità sono informazioni manipolate, più o meno in buona fede, ma sicuramente che non hanno fondamenti di veridicità. Come facciamo ad avere accesso alle informazioni pure, alle informazioni reali? Come facciamo a non cadere nel tranello della manipolazione quella? Allora, le strade diciamo che sono due. Una è quella di selezionare gli informatori e quindi fidarsi di chi ha una importante coerenza tra ciò che dice e ciò che è. I nativi americani dicevano coloro che camminano le loro parole. e quindi cercare di fidarci di chi è ciò che dice e dice ciò che è. Questo se vogliamo avere un tramite. La strada un po' che forse ho scelto io, ma che abbiamo scelto in tanti, è invece quella di andare direttamente alla fonte. E la fonte è la nostra guida interiore, che non è altro che questa energia d'amore che noi incarniamo, che comunica con noi continuamente e che ci dà anche tutte le informazioni utili e necessarie per realizzare il nostro benessere attraverso la realizzazione della nostra miglior versione. Noi siamo sempre in contatto con noi stessi, con la nostra parte più profonda. e anche utilizzare questo tipo di filtro ogni volta che entriamo in connessione con qualunque tipo di informazione, quando ci risuona veramente, quando quello con cui entriamo in connessione o in argomentazione ci risuona e fa danzare il nostro cuore, abbiamo un ordine di misura per comprendere cosa è vero e cosa non è utile. Perché gli hawaiani, per chi mi conosce, baso un po' tutto il mio percorso sulla conoscenza della spiritualità hawaiana e appunto gli hawaiani dicono che il nostro Aumakua, la nostra guida interiore, comunica con noi continuamente attraverso una pioggia ininterrotta di benedizioni. Queste benedizioni sono proprio la consapevolezza di ciò che è e a questo tipo di informazioni noi abbiamo accesso diretto. Chiaramente c'è un lavoro da fare, un lavoro di pulizia per liberarci di tutte quelle credenze, di tutte quelle convinzioni che appunto in O'Konopono si definiscono memorie che ci impediscono di vedere le cose nella loro reale identità, che ci impediscono alla fine di riconoscere la scintilla d'amore, la scintilla divina in quello che stiamo vivendo e che quindi ce lo fanno percepire come sbagliato, come erroneo, come male, tra virgolette, ecco. Quindi diciamo che le strade sono due, o attraverso un intermediario, che deve essere però molto affidabile e il filtro siamo comunque noi, oppure se vogliamo andare direttamente alla fonte, questa è la strada che io suggerisco. Aspetta, allora, noi possiamo osservare un, hai detto, una serie, una pioggia di benedizioni, però dopo che abbiamo ripulito il subconscio, giusto? Sì, subconscio e conscio, perché tante convinzioni forvianti le abbiamo anche razionalmente. quindi il mio consiglio è quello di entrare in un determinato percorso, farsi le basi appunto di come funzionano le cose e per questo insomma ci sono, ci sono divulgatori autorevolissimi, anche datati, diciamo così, senza bisogno di andare sempre sull'ultima, sull'ultima novità. e poi quando abbiamo chiaro come funzionano le cose e in realtà la descrizione di come funzionano le cose è tutta nella frase appunto che ho detto in apertura, tutto è uno, l'uno è amore, tutto è amore che si muove in direzione della conoscenza di se stesso e tutto quello che accade, accade in questo modo e in questa direzione. Perciò ogni volta, se noi acquisiamo questa verità, la integriamo dentro di noi, ogni volta che abbiamo un dubbio in qualunque ambito, lo filtriamo attraverso questo tipo di conoscenza, avremo subito la risposta se stiamo andando nella direzione corretta o se stiamo prendendo una strada disfunzionale per il nostro benessere, per la nostra crescita, per il nostro riconoscimento. La risposta arriva come un'intuizione, come un pensiero, come facciamo a capire che è quello? A me piace proprio fare la distinzione tra ispirazione e istinto. Poi c'è questa parola appunto intuizione che è un po' un po' un ibrido tra i due, però è molto più spostata verso l'ispirazione. Per me l'ispirazione è proprio quella consapevolezza di qualcosa che prima non sapevi e dopo lo sapevi. Quando noi ci facciamo qualunque tipo di domanda, qualunque tipo di dubbio, qualunque tipo di difficoltà da risolvere, scelte da fare, se noi riusciamo a entrare in un livello di centratura e di pulizia, l'ispirazione arriva e l'ispirazione è quella consapevolezza che non ha bisogno di argomentazioni. Tu scegli di andare di là perché sai che devi andare di là e non ti poni il problema. A me spesso mi viene chiesto appunto che differenza c'è tra ispirazione e istinto, che differenza c'è appunto tra ispirazione e memoria, quindi una scelta dettata dalle nostre convinzioni, dalle nostre credenze. La differenza è proprio questa, che quando sei ispirato, tu quella cosa la fai, non ti poni le domande. Recentemente una ragazza mi ha proprio scritto, mi ha detto io sento di dovermi licenziare, tu cosa ne pensi? Perché me lo dice il cuore? Se te lo dicesse veramente il cuore, non mi chiederesti cosa ne penso. Sapresti che quella è la tua strada. E quando noi siamo centrati, siamo puliti, siamo liberi dalle memorie, inoponopono, ma da tutte quelle convinzioni limitanti, forvianti, quei blocchi energetici che non ci permettono di riconoscere l'amore nelle cose, quando l'ispirazione arriva, noi sappiamo qual è la nostra scelta, sappiamo qual è la nostra direzione e la prendiamo, non ci facciamo tante domande. Il mio amico Rudy Carone fa questa bellissima comparazione, dice quando sei innamorato, lo sai, non hai bisogno di chiedere alla tua amica, di chiedere alla tua mamma, di chiedere se sei innamorato lo sai. Se ti chiedi se sei innamorato, allora non lo sei. Non è. bello. Ascolta, hai parlato dell'amore, come possiamo collegare proprio amore innamorato, hai detto, amore romantico con l'abbondanza? C'entrano qualcosa uno con l'altro? Allora, diciamo che l'amore romantico è quello che definiamo come l'amore umano, l'innamoramento appunto, lo scegliere un po' istintivamente qualcuno. Poi ci si innamora certamente non per scelta, non per decisione. l'innamoramento vero e proprio, quello che viene dall'alto, quello che ti fa danzare il cuore, che ti mette su una vibrazione diversa da quella su cui sei sempre stata, sicuramente ha molto a che fare con l'abbondanza, perché è ispirato, è qualcosa che tu non hai scelto, che arriva e che ti porta in una determinata direzione. E tu ci vai proprio. Le cose cambiano quando passa un po' di tempo e subentrano le memorie, subentrano le convinzioni, subentrano i bisogni, subentrano la volontà di ottenere. A quel punto possiamo ancora effettivamente essere innamorati, ma è un innamoramento contaminato e quindi a quel punto non è più affidabile come guida. ciò non toglie che, essendo l'energia d'amore tutto ciò che è, noi possiamo recuperare la fonte dentro di noi in ogni momento ed è una forma di innamoramento di noi stessi. vogliamo avere una relazione che funzioni perché abbiamo bisogno di qualcuno che costruisca qualcosa con noi, abbiamo bisogno di qualcuno che ci completi, abbiamo bisogno di qualcuno che dia un senso. non siamo nella vibrazione dell'amore quando siamo in questa dinamica. Quando noi abbiamo bisogno, la legge di attrazione ci insegna che la vita ci proporrà altre situazioni in cui sperimenteremo il bisogno di completezza, di costruzione, invece quando noi siamo nell'amore cristallino, nel riconoscimento della nostra essenza d'amore, siamo in una vibrazione che non ha più bisogno. Noi siamo completi in noi stessi e sufficienti in noi stessi e siamo in grado di ottenere da noi stessi tutto quello di cui possiamo avere bisogno. Allora a quel punto anche l'amore romantico diventa un amore superiore perché non è più direzionato dal bisogno ma è proposto dal desiderio, dalla voglia di crescere insieme. Noi siamo già completi, siamo già autosufficienti, abbiamo già tutto quello che ci serve in noi stessi, ci innamoriamo a un livello superiore quando vogliamo condividere il nostro essere con qualcun altro non per bisogno ma per la gioia di espanderci insieme che è diversissimo come approccio rispetto a quello che si fa tante volte e insomma è anche la modalità più diffusa ed è forse la motivazione per cui tante coppie saltano. Parlaci ancora, spero che farò così. Guarda io sono partita da tutti gli altri, scrivete pure ma quando stai parlando di queste cose io sto così. Allora io non parlo degli argomenti dell'amore, dell'amore romantico, dell'amore di coppia perché io mi sono specializzata sull'abbondanza. Giovanna, porta un po' di amore anche nel metodo MCA. Parla ancora di questo argomento. Poi magari adesso arrivano i commenti, dite se volete parlare ancora di abbondanza, volete parlare dell'amore, anche quell'amore creato da due persone adulte. Ma vedi che già il metodo MCA che significa mente, cuore e anima, giusto? Giusto. è già amore. Di cosa è fatto l'amore se non della coerenza tra mente e cuore verso l'anima. Quindi tu parli di abbondanza ma ne parli dal punto di vista dell'amore, dal punto di vista... che poi è l'unica via, l'unica strada per realizzare un'abbondanza reale, un'abbondanza duratura, un'abbondanza che ci corrisponde. Perché altrimenti tutti i vari sistemi per utilizzare la legge d'attrazione consapevolmente, ce ne sono ormai n.000, ci insegnano, ci spiegano che focalizzandoci sulla tal cosa, che stando... ci sono tutta una serie di meccanismi per cui effettivamente l'abbondanza riusciamo magari a fatica, magari con tanto lavoro a manifestarla lo stesso. Ma se l'abbondanza che manifestiamo in questo modo non è sintonizzata con l'amore che noi siamo, come la raggiungiamo così la perdiamo. Perché non è qualcosa che ci appartiene. Se invece noi espandiamo l'amore che siamo, riconosciamo chi siamo veramente, noi non attrarremo più abbondanza come qualcosa di esterno a noi, ma ci sintonizziamo su una realtà che ci riflette, che ci corrisponde, che è quello che noi siamo. E quello non ce lo può portare via nessuno, perché è come come se ci portassero via un braccio, nel senso non possono portarci via una parte di noi. Nostro, infatti. Parte dell'abbondanza guadagnata con il duro lavoro, diciamo così, la possiamo perdere proprio perché non è noi, o meglio, è solo una parte di noi in un piccolo momento, in un piccolo spazio. se invece noi lavoriamo su di noi ed espandiamo la nostra reale identità e riconosciamo la nostra reale identità, non possiamo che sintonizzarci sulla stessa vibrazione e a quel punto lì siamo, lì restiamo. Nessuno ci può togliere questo, perché è quello che noi siamo. E anche se nel mondo quello reale, tra le virgolette, che magari è meno reale di quello reale davvero, quello che è energia, che è amore, e possiamo anche perdere momentaneamente beni fisici, lavori, ma questo, come dici tu, ci porta a un'espansione ancora. Esatto, esatto, proprio questo, proprio questo. Se noi lavoriamo su di noi e lavoriamo nel senso di riconoscere ed espandere la miglior versione di noi stessi, cioè facciamo un percorso che ci porta a comprendere qual è il nostro talento, cosa siamo venuti qua a fare, quale tipo di apporto possiamo dare all'umanità proprio perché è quello che noi siamo, è la nostra bellezza, quando noi siamo in questo tipo di percorso la vita non ci permetterà mai di non avere quello che ci serve, tutto quello che ci serve e di più, a meno che noi non ci mettiamo degli ostacoli energetici, noi perché pensiamo di non meritarlo, perché pensiamo che non ci appartenga, perché pensiamo di non essere la persona giusta, eccetera, eccetera. O perché pensiamo di essere migliori degli altri. Esatto, e tutte queste sono memorie da pulire, ma quando noi abbiamo fatto un lavoro di pulizia e siamo in percorso verso la realizzazione del nostro talento, verso il riconoscimento di chi siamo, la vita ci darà tutto quello che ci serve e nel momento in cui ce lo togliesse sarà un togliercelo percettivo, cioè a noi sembrerà di aver perso qualcosa, ma se ci risintonizziamo su chi siamo ci accorgeremo che quel qualcosa è stato tolto solo ed esclusivamente per creare quello spazio necessario per ottenere molto di più, molto meglio. Bello, bello, bello. E guarda, la bellezza di tutto questo è che non c'è lavoro da fare, non c'è fatica, non c'è da imparare a memoria, basta essere chi siamo nella maniera più amorevole, metterci a disposizione del nostro prossimo, dare tutto ciò che vorremmo ricevere, ma non con l'obiettivo di riceverlo, darlo, dare proprio perché dare ci espande, ci riempie il cuore di gioia, ci riempie la vita di gioia. Più noi siamo gioiosi appunto, più gioiosi siamo, più realizziamo situazioni che ci portano ad essere grati per ciò che noi siamo e realizziamo e più siamo grati, più la vita ci darà situazioni per essere ancora più grati. Quindi è tutto un circolo virtuoso, incredibile, pazzesco, bellissimo, che è la cosa più naturale del mondo. Quindi non serve fatica, non serve poi, chiaro, se invece siamo ottenebrati e riempiti di memorie, di blocchi energetici, allora sì, un percorso serve perché in sostanza è un percorso di pulizia, ma gli stessi percorsi che proponi tu sono percorsi per risintonizzare la nostra reale identità, per recuperare quello che non riusciamo a vedere di noi e tutti i percorsi spirituali sono questo, pulizia, ma quando noi siamo in un percorso di questo tipo e quindi stiamo facendo questo tipo di lavoro e scegliamo di risintonizzarci con la nostra reale identità, di tornare all'informazione della fonte, poi tutto accade in maniera ovvia, naturale, fluida, ecco, questo significa essere nel flusso, altra frase che si sente ripetere spesso. Ascolta, come pulire, come ripulire le memorie? Allora, ovviamente Ho'Pono Pono nella sua pratica è proprio un processo di pulizia e quindi qualunque tipo di strumento di Ho'Pono Pono serve proprio per fare questo, per eliminare la polarità energetica negativa che abbiamo attribuito a nostri vissuti reali o virtuali per cui possono essere nostri o indotti e recuperare la visione dell'energia neutra che questi fatti invece veicolano e quindi Ho'Pono Pono con tutti i suoi strumenti fa questo. Scusa, che intendi Ho'Pono Pono con tutti i suoi strumenti? Lo strumento principale dell'Ho'Pono Pono è la ripetizione del mantra scusa, grazie, ti amo che sono un mantra proprio delle parole da ripetere in ogni momento, in ogni situazione senza nessun tipo di regola in questa formula o in qualunque altro tipo di sequenza scusa, grazie, ti amo, scusa, grazie, ti amo e questo è lo strumento principale dell'Ho'Pono Pono ce ne sono poi tutta una quantità enorme, ci sono vari processi proprio di Ho'Pono Pono che ci derivano dalle Hawaii, le famiglie hawaiane, ogni lignaggio ha la sua pratica, ne sono arrivate diverse anche qua in Italia ed è proprio una pratica, un fare qualcosa per riarmonizzare la percezione energetica che stiamo vivendo ma in realtà qualunque tipo di percorso spirituale serio il lavoro che fai fare tu è un lavoro di pulizia quando uno per 90 giorni si mette quotidianamente su quel tipo di vibrazione sta eliminando dal suo subconscio tutte le vibrazioni contrastanti e quindi sta facendo pulizia poi si chiama pulizia si chiama in un altro modo uno che fa reiki sta riarmonizzando la sua interiorità il theta healing le costellazioni familiari le regressioni sono tutti percorsi che hanno l'obiettivo di riarmonizzare le energie obsolete le energie ostacolanti quello che proprio non ci permette di vedere l'amore in ogni cosa e quindi se uno sceglie di fare pulizia benissimo che segua il metodo MCA che è pulizia benissimo che segua Ho'oponopono benissimo che faccia reiki quindi scegliamo un po' il percorso che ci risuona di più quello magari anche proposto dal dalla persona che ci appare più autentica che ci appare più attendibile e facciamo quello importante fare importante fare perché poi ci sono tante persone che ascoltano e pensano che già ascoltando hanno sistemato tutto no è chiaro che poi siccome siamo proprio infarciti di energie ostacolanti il lavoro da fare è abbastanza cospicuo per tutti gli umani per tutti e quindi bisogna fare fare per arrivare ad essere poi chiaramente nel momento in cui a forza di fare cominci ad essere potrai anche fare sempre meno perché sei ma sì io ne conosco veramente non ne conosco di persone che non hanno più bisogno di fare anche se ne ho conosciute di belle però anche anche certi sciamani certi esponenti comunque la loro pratica quotidiana la loro pratica questo sempre però io ho osservato non lo so dimmi se la mia impressione che adesso le persone riescono a fare molto molto più velocemente eh ma perché siamo in un momento storico molto molto accelerato e diciamo anche che abbiamo scelto probabilmente di essere qui perché avevamo questo tipo di obiettivo fantastico il momento fantastico guarda sono arrivate un po' di domande nel frattempo scrive Luigi stare bene da soli e non desiderare alcuna relazione cosa significa egoismo oppure essere completi così senza bisogno dell'amore inteso nel senso classico amore di coppia allora io credo che anche anche in questa in questa affermazione di Luigi ci sia un retaggio da sfatare che è quello che l'egoismo sia una cosa sbagliata l'egoismo esiste in forma sana e in forma patolosa logica l'insano egoismo è l'unica via per realizzare un efficace altruismo Gesù di Nazareth ci ha lasciato un comandamento che è ama il tuo prossimo come te stesso lui non ci ha detto ama il tuo prossimo come poi il catechismo ha un po' trasmesso non ha detto ama il tuo prossimo appunto e non ha neanche detto ama te stesso come sta facendo passare certa new age negli ultimi anni che stiamo perché chiaramente per secoli abbiamo messo l'accento su ama il tuo prossimo adesso per ribilanciare invece di ribilanciare portiamo l'accento su ama te stesso invece sono due visioni squilibrate Gesù ha detto ama il tuo prossimo come te stesso e quando nella Bibbia sono proposti dei comandamenti i comandamenti non sono consigli non sono è meglio che fai così perché così vai in paradiso non sono delle opportunità guarda potresti fare così che stai meglio no i comandamenti sono leggi cioè non puoi fare diversamente quando Mosè ci dice non uccidere significa che tu non puoi uccidere perché la vita è eterna quindi anche se fisicamente uccidi il tuo simile tu non hai ucciso nulla ti sei solo a tratto della negatività che poi dovrai ribilanciare il famoso karma quando Gesù ci dice ama il tuo prossimo come te stesso ci sta dicendo che non è possibile fare diversamente noi non possiamo in nessun modo amare gli altri se non amiamo noi stessi noi non possiamo dare fuori quello che non abbiamo dentro quindi l'attenzione va sul realizzare il mio benessere allo stesso tempo però non è possibile in nessun modo amare se stessi se non amiamo gli altri l'essere umano non è un'isola l'essere umano è un animale sociale e ha bisogno di stare bene in mezzo ai suoi simili se chi io amo sta male io non potrò mai essere felice per cui se qualcuno che amo sta male io farò tutto quello che è in mio potere per farlo stare bene ma non con la priorità di far stare bene lui perché solo in quel modo potrò stare bene anch'io perché le due cose sono talmente intrinsecamente incastrate che non possiamo fare l'uno senza l'altro quindi questo ci porta abbastanza abbastanza direttamente a comprendere come l'egoismo così come c'è stato venduto anche per colpevolizzarci in qualche modo in realtà è il sano egoismo è il primo passo il primo e indispensabile passo verso qualunque tipo di efficacia altruismo ecco che quando solo quando io sarò una persona autonoma infatti per me autonomia è la parola d'ordine in ogni ambito quando io sarò una persona autonoma quando sarò io sarò una persona completa in me stessa quando mi basterà la mia compagnia sarà il momento in cui arriverà chi espanderà questa mia bellezza e allora ben venga al compagno ma deve essere un percorso di collaborazione c'è una bellissima una bellissima immagine che si dice che le relazioni possono essere di tre tipi o così cioè che uno si appoggia all'altro o così chiaramente o così che le due persone si appoggiano l'una all'altra o così l'unica relazione che funziona è questa perché questa nel momento in cui uno dei due cambia velocità cadono tutti e due questa nel momento in cui uno dei due cambia velocità uno soccombe questa è l'unica relazione questa in cui ci sono due sani egoismi che collaborano e che si espandono insieme e che godono l'uno dell'espansione dell'altro è l'unico modo in cui una relazione può funzionare perché si può camminare insieme e si può anche cambiare velocità e questo non comporterà nessun dramma perché se io vado più veloce a un certo momento mi accorgerò ti aspetto e mi raggiungi se invece uno crolla non c'è più margine di recupero bellissimo grazie e mi arriva per risposto forse sono stata un po' logorroica bellissimo bellissimo grazie e scrive Barbara la riconoscenza ha la stessa energia della gratitudine sì 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 assolutamente non ci avevo mai pensato ma sì la cosa fondamentale anche qui è quella di non sviluppare una dipendenza da chi ci ha fatto del bene ma la riconoscenza ha la stessa forza della gratitudine sì scrive Paola io dico sempre scusa ti amo perdonami grazie sbaglio no 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 allora in realtà il mantra è arrivato in Italia in inglese ed era please forgive me sorry I love you thank you la il mantra scusa grazie ti amo comprende nello scusa il sorry e il please forgive me poi dopo che già in Italia si utilizzava questo scusa grazie ti amo o scusa perdonami grazie ti amo è arrivata la traduzione del libro di Giovitale Zero Limits in cui all'interno del libro la traduzione proposta mi dispiace perdonami grazie ti amo in realtà non non c'è non ce n'è uno giusto uno sbagliato anche perché anche queste formule possono essere ripetute complete possono essere ripetute solo una parte quindi uno può dire solo grazie 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 ti amo grazie ti amo possono essere ripetute in qualunque tipo di sequenza perché in realtà non sono queste parole che hanno un potere gli hawaiani dicono in uno dei loro sette principi dicono tutto il potere viene da dentro e chi dà potere vibrazionale a queste parole sono io con la mia intenzione di pulire il potere è tutto nell'intenzione tant'è vero che provare per credere funzionano tutte le sequenze e infatti questa ragazza Paola mi pare che fosse non mi ricordo vabbè che dice io uso scusa ti amo perdonami grazie se la usi e effettivamente vedi che che compie il lavoro di riarmonizzazione per il quale lo utilizzi vedi che non non sbagli grazie scrive Sabrina scusa grazie ti amo a chi bisogna dirlo allora in realtà tutto è uno l'uno è amore tutto è amore che si muove eccetera perciò se io sono se io esisto significa che io non solo sono amore come abbiamo detto fino qui ma sono anche l'uno ciò significa che energeticamente non esiste nient'altro che me e tutto quello di cui io faccio esperienza è un mio riflesso che non vuol dire che non esista perché ovviamente per te esisterai tu per Sabrina esisterà Sabrina quindi ognuno è l'individualizzazione dell'uno ma nel mio mondo io sono l'uno quindi tutto quello di cui io faccio esperienza è un mio riflesso e dipende da come sono io si realizza nella mia vita in base a come sono io per cui la risposta alla domanda è scusa grazie ti amo o simili io li rivolgo a me stesso per riarmonizzare la mia interiorità di cui la vita di cui faccio esperienza è il riflesso quindi io scusa grazie ti amo ti amo lo dico a me per me e su di me grazie quindi questo è anche bellissimo perché ci toglie dall'impasse del del perdono che io perdono qualcuno là fuori che ha sbagliato che mi ha fatto del male mi metto sul famoso piedistallo da cui da cui poi si cade è una vergogna è tutto una confusione così in realtà in un mondo d'amore in cui tutto ciò che è amore non può esistere qualcosa di sbagliato esiste qualcosa che data la nostra limitazione non riusciamo a riconoscere nella sua bellezza ma sono sempre io che non riesco a riconoscere la bellezza in quello che mi fa male e quindi il lavoro di armonizzazione lo devo fare su di me e sulla mia capacità percettiva di quello che accade grazie scrive Ambroggio a parte che arrivano bellissimi commenti grazie per questa diretta bellissima puntata grazie e scrive Ambroggio possiamo parlare della riconoscenza e se questa aiuta per attrarre abbondanza e come porsi correttamente allora per quanto riguarda la riconoscenza abbiamo detto prima che è un po' lo stesso concetto energetico della gratitudine allora sempre negli strumenti di utilizzo consapevole della legge di attrazione si dice che dovremmo imparare a dare quello che vogliamo ricevere quindi anche la riconoscenza la gratitudine verso quello che verso le piccole cose che ci allineano all'abbondanza sicuramente vibratoriamente è un'operazione funzionale ed efficace alla realizzazione dell'abbondanza vorrei svelarvi un piccolo segreto c'è un livello superiore di questo di questo concetto è vero che noi vibratoriamente attraiamo ciò che diamo quindi se vogliamo qualcosa per noi ottimo ottimo meccanismo è quello di cominciare a darlo agli altri quindi se vogliamo abbondanza per il nostro negozio ottima cosa è aiutare il vicino di negozio con la sua inaugurazione o aiutarlo fare passaparola per aiutarlo a a farsi conoscere eccetera eccetera quindi tutto quello che noi facciamo per l'espansione per l'abbondanza degli altri energeticamente ci ritorna però appunto se noi guardiamo le cose da un livello superiore il quinto principio della spiritualità hawaiana è il principio di Aloha che significa Aloha significa tra le tante altre cose amore incondizionato e il principio di Aloha ci dice che Aloha l'amore è essere felici con per questo significa che noi siamo in amore con il nostro prossimo quando ciò che rende felice il nostro prossimo rende felice anche noi quindi è un po' l'esempio che facevo prima dicevo se qualcuno che io amo soffre io soffrirò e quindi farò tutto quello che posso per farlo stare bene perché solo così potrò stare bene allo stesso modo se qualcuno che io amo è felice io godrò della sua felicità anche se il motivo della sua felicità a me non mi interessa niente solo il fatto che lui stia bene mi fa stare bene quindi tornando al discorso di prima il fatto di dare per la gioia che dare ci procura per la gioia che ci procura vedere il nostro vicino di negozio che ha un'attività prospera che sta bene che è felice di quello che sta realizzando anche con il nostro aiuto senza il secondo fine di recuperare quello che stiamo dando senza il secondo fine di dire do quindi mi torna lasciamo perdere mi torna do perché questo mi dà gioia e lo faccio per espandere la mia gioia questo è potentissimo lasciamo andare per cose è potentissimo è un effetto collaterale io lo sto ascoltando grazie per questo corso di formazione che fai tu a me non so adesso leggo i commenti perché mi si stanno aprendo delle consapevolezze no ma Ursula sai cos'è sai cos'è che io forse ho messo insieme tutte le le cosine e ho anche la teoria ma tu lo stai già facendo perché con il tuo corso tu insegni esattamente queste cose sì sì lo so però adesso mi sta magari sentendomelo dire da qualcun altro questo corso capisci perché funziona no ma funziona alla grande io non io non me lo sono potuta inventare così io sono stata proprio ispirata esatto perché veramente è geniale e con questo corso io l'ho fatto perché mi ha iscritto anche qualcuno che è specializzato in marketing che mi dice ma perché io questa persona non la conosco non sta mi sembra neanche nei miei contatti mi ha scritto oggi ma perché tu fai un corso così che ha un successo così grande a così basso prezzo e io gli ho risposto perché le persone mi hanno rotto le scatole per anni dicendomi ma perché non fai un prodotto che è accessibile a tutti allora io l'ho creato ho detto ok ho pensato tre mm non avete i soldi per pagare i miei corsi allora io vi insegno come entrare nella frequenza dell'abbondanza e ho creato questa cosa già ho detto chi fa la sfida dei novanta giorni poi vi creerò un altro livello un altro livello dove andiamo a ripulire ancora e succede una cosa meravigliosa perché praticamente loro mi mandano in continuazione i loro guadagni ma guadagni fisici arrivano i soldi anche dalle parti più impensate e io dico ma allora io nel mio quadernino degli incassi già sono diventata milionaria è proprio proprio questo che dici tu ogni volta che mi arriva una testimonianza di qualcuno io mi sento ricca e poi mi scrivono ma come fai a sentirti che ricca leggo le testimonianze no ma guarda Ursula veramente come sfondi una porta aperta perché è proprio così io ho una membership un su Patreon non so se lo conoscete è un contenitore in cui quotidianamente propongo dei contenuti e avevo creato tre livelli proprio perché dal punto di vista del marketing è giusto che chi riceve più valore lo ricambi con un abbonamento più alto chi riceve meno valore insomma avevo deciso di chiuderla questa membership perché non ero soddisfatta a me pensare che quelli con l'abbonamento più basso non potessero avere altri contenuti la live mensile non potessero avere e soprattutto questa cosa della live mensile a me l'idea che qualcuno di questo posto che io considero una casa fosse tagliato fuori da questo cioè niente e allora ho uniformato tutti tutti gli abbonamenti a uno solo intermedio e basta adesso vado avanti così e tutti uguali perché perché non cioè mi sono chiesta ma cos'è che non va cos'è che non mi soddisfa e alla fine la risposta è stata questa e adesso sono soddisfatta sono felice guadagnerò meno e chi se ne importa dici un po' dove hai questa cosa della è su Patreon dunque l'indirizzo è Patreon slash Giovanna Garbuio dovrebbe essere semplicemente così Patreon slash Giovanna Garbuio se dovrebbe essere grazie adesso andiamo a cercare è un posto è un posto bello che erano tantissimi anni che volevo creare finalmente ho trovato questo contenitore ma ancora c'era qualcosa che non e perché alla fine queste cose le fai perché non per dare non è per dare è perché ricevo talmente tanto a livello energetico a livello vibratorio che non puoi fare diversamente non puoi contenere scelte non puoi fare diversamente non puoi perché se tu fai una scelta diversa non stai bene e allora il mio stare bene non apprezzo esatto ascolta ti posso fare una domanda se mi perdonate anche agli spettatori che non c'entra molto con amore e abbondanza però mi piaceva sapere che ne pensi ahia ahia cominciò a preoccupare eh sì perché l'ho chiesto anche a Francesco quando c'è stato con noi in diretta che ne pensi del libero arbitrio della teoria sai perché mi è venuta questa domanda quando hai parlato che nel mio universo io sono tutto che pensi proprio del libero arbitrio arbitrio e sacro santo e noi abbiamo sempre una scelta poi in realtà appunto viviamo in un multiverso in cui ogni cosa si realizza quindi noi anche il concetto di reincarnazione che facciamo così fatica a comprendere perché in realtà è un concetto contemporaneo perché se fuori da questa dimensione non esiste tempo non è che noi ci incarniamo prima dopo ma è tutta un'incarnazione contemporanea su eh livelli diversi eh il transurfing parla delle delle varianti no e quindi noi in ogni momento scegliamo qua di quale variante fare esperienza è naturale che eh nel nella totalità noi faremo esperienza di ogni variante ma nella nella nell'individualizzazione qui e ora che di cui io ho scelto di portare avanti il ruolo io momento per momento scelgo chi voglio essere e scegliendo chi voglio essere mi sposto sulla sulla variante vibrazionalmente in sintonia con chi sono quindi per me questo è il libero arbitrio proprio decidere momento di per momento chi voglio essere ok per me stessa e quando si parla per esempio abbiamo parlato io non posso del fatto che non posso stare bene se le persone che amo non stanno bene fine fino dove posso intervenire non lo so anche a livello energetico a lavorare sulle altre persone allora a volere che loro facciano determinate scelte escono anche dai loro problemi io torniamo all'abbondanza io sto facendo il percorso della di alzare le mie frequenze e mio marito continua a rimanere nella scarsità allora sempre perché il libero arbitrio esiste noi non possiamo in nessun modo bypassare il libero arbitrio degli altri certo è che siccome tutta la mia realtà è un mio riflesso più io vibro alto più tutta la mia realtà vibrerà al mio stesso livello questo cosa significa che io nella mia crescita nella mia evoluzione mi alzo di vibrazione e porto con me tutto quello e tutti quelli che sono in sintonia con me cioè tutti quelli il cui percorso è la loro miglior scelta e la loro scelta esatto di stare con me se invece io continuo ad alzare la mia vibrazione ma appunto uno di quei due sceglie di rallentare e per quanto io mi giri e lo spetti e non non mi raggiunge allora quel qualcuno che non sa che non è più in sintonia con me perché ha fatto scelte diverse uscirà dalla mia realtà e uscirà in maniera tanto più indolore quanto più io sono pulito quindi più le mie memorie sono armoniche e sono pulite tanto più anche distacco da persone che fanno parte della mia vita sarà fluido ognuno sceglie la sua strada in libertà e in rispetto reciproco proprio perché il libero arbitrio è qualcosa di impossibile da da prevaricare noi non possiamo neanche lavorare per fare stare bene gli altri noi possiamo lavorare per stare bene noi in relazione alla situazione degli altri accettando noi staremo bene dell'altro esatto quando noi staremo bene riguardo alla loro situazione loro saranno in qualche modo agevolati se vogliono seguire la nostra vibrazione ma se scelgono di restare nella loro e la loro è diversa o è no migliore peggiore perché non c'è migliore e peggiore ma diversa per cui non sarà più compatibile con la nostra sceglieranno un'altra strada e appunto in maniera sempre meno dolorosa quanto più noi vibriamo alto e quanto più siamo puliti e ci dobbiamo ricordare che in qualsiasi situazione l'universo va verso la direzione dell'amore per tutti per tutti assolutamente perché anche chi sceglie che restano indietro anche perché chi sceglie simbolicamente perché non è un reale restare indietro ma chi sceglie simbolicamente di restare indietro è perché il suo miglior percorso passa di là perché quell'esperienza è importante è fondamentale per la sua evoluzione animica diciamo così che ha nulla a che fare con i nostri criteri umani di meglio peggio alto e basso bellissimo grazie scrive Rosa finalmente qualcuno che spiega la legge di attrazione trasmettendo amore e altruismo questo elemento fondamentale anche Roberto grazie Giovanna grazie Ursula e Lucrezia una diretta di pur amore grazie grazie era nella nostra intenzione bellissimo Giovanna io ti ringrazio tantissimo era veramente illuminante per me Ursula grazie a te davvero intanto di aver fatto questa cosa insieme perché è stato veramente stimolante bello e ce ne saranno altre voglio sperare sicuramente se vorrai sarei sempre benvenuta grazie 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 e grazie a tutti quelli che ci hanno dedicato un po' del loro tempo grazie a tutti la settimana prossima facciamo la diretta sempre di martedì perché c'è un'altra sorpresa per voi vi ringrazio tanto e buonanotte a tutti grazie